Chi guadagna di più ha più probabilità di curarsi meglio e più velocemente rispetto a chi ha una busta paga più leggera. Accade anche nei sistemi sanitari pubblici dove il diritto alla salute è garantito a tutti. A stabilirlo è una ricerca canadese. Lo studio ha verificato che i nuovi pazienti con uno status economico elevato hanno più del 50 per cento di probabilità di accedere velocemente alle cure primarie quando chiamano lo studio medico, anche in un sistema sanitario pubblico in cui i camici bianchi sono rimborsati allo stesso modo per ogni paziente che visitano. Se questo accade avvertono i ricercatori in un sistema dove c'è un unico soggetto, lo Stato, che paga le prestazioni abbiamo una prova della discriminazione dei pazienti da parte dei medici solo sulla base dello status socio-economico.